Allora ragazzi bentornati sul canale Gaming Now e continuiamo il gameplay di Gears of War Judgment Allora siamo all'ultimo livello Tribunale, siamo tornati nel presente A quando la squadra Kilo è stata appunto giudicata Non stiamo quindi più rivivendo nessun ricordo dei membri Ma ora praticamente giochiamo nella linea temporale del presente Quindi l'attacco delle locusti al tribunale Dobbiamo evacuare Il generale Lumis che è un codardo a quanto pare Se l'è data a gambe Che è praticamente il giudice che ci stava giustiziando Siamo tornati nei panni di Bird Attenzione, le locuste volanti Cazzo Vi danno un fastidio queste cazzo di cose volanti che sono veloci Vi danno un passo Vi danno un passo Vi danno vai Questa incontro è finita Continua mad'avivare Aiuto Ammelo Ero Vi dannoback Mora Vai, call Trova il modo di arrivare al ramen Il rapporto del colonnello Loomis non accennava trappole con granate fumogene piazzate dalle locuste Trappole con granate fumogene dalle locuste riducono la visibilità I superti potrebbero lanciare dei fumogeni con questo caos Granata! No Come sprecare granate Prendiamoci lo scudo Ecco che nuovamente la visibilità è oscurata Con queste granate fumogene Trovato Trovato Mi ha fatto un'errore Mi tagliamoci Ho fermato l'emorragia Mi ha fatto un'errore Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, 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 Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì, Sì! 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 Sì, 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 Sì! Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, 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 Sì! Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì, Sì! Sì! Sì, Sì! 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 Sì, Sì! Sì, Sì! 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 Sì!